Un saluto da dottor Palmas. Quello che vedi è un caso di denti fissi con sistema bocca bionica, denti completamente rovinati dalla parodontite, uno stadio terminale come vedi sono proiettati in avanti, si sono creati spazi diastemi tra i denti, la bocca era completamente collassata, denti ingialliti e fuori posto con le radici fuori dalle gengive, questo è il classico nello stadio terminale della parodontite. Abbiamo fatto la radiografia e qui abbiamo pianificato la chirurgia che si sarebbe dovuta eseguire, c'era poco osso a livello dei seni macellari, abbiamo creato due protesi provvisorie montate sopra sei impianti dentali nell'arcata superiore e altri sei nell'arcata inferiore. Questo è il tipo di chirurgia che abbiamo eseguito, il posizionamento degli impianti in mandibola e il posizionamento degli impianti in mascella superiore, su di questi abbiamo poi posizionato le arcate provvisorie abitate. Successivamente qua ti faccio vedere come si presentava la TAC 3D quando è arrivato il paziente, denti completamente proiettati in avanti. Sul lato destro puoi vedere gli impianti dentali integrati nell'osso delle mascelle. Il paziente era pronto a questo punto per fare i definitivi, abbiamo creato un design dei volumi dei nuovi denti che avremmo voluto posizionare e a questo punto abbiamo testato quelle che sarebbero state le forme dei nuovi denti. Questi sono dei denti in plastica che servono a verificare dove avremo posizionato i denti. Successivamente abbiamo prodotto le arcate definitive, queste che vedi sono due linee superior, denti tutti in zirconio con la gengiva in composito, la linea più avanzata che c'è al mondo, nota come i denti sono delle perfette repliche di denti reali, denti perfetti che vengono scansionati, riprodotti in fisico, roboticamente. Viene infine dato questa lavorazione di superficie, nota come la luce riflette sulle superfici dello smalto artificiale, come l'opalescenza dona questa vitalità alle corone di questi denti e come appaiono dei denti reali anche a livello di gengive. Successivamente abbiamo integrato i denti nella bocca del paziente, verificato l'occlusione che era già stata adattata dall'intelligenza artificiale e questo è il risultato finale con le arcate in posizione. Il paziente avrà una replica di questi denti a disposizione, una copia di backup in cloud, potremmo darli persino in un penino usb al paziente in quanto sono delle copie di denti completamente digitali, denti reali che vengono scansionati. Spero ti sia piaciuto questo caso, dai uno sguardo a tutti gli altri casi risolti col sistema denti fissi, bocca bionica.